Ciao a tutti, sono Furio Chirico e è importante per me essere qua perché è la prima manifestazione dedicata all'Italia che si svolge in Giappone ed è una cosa dedicata al Progressive Italiano, cioè a quella musica che anche in Italia è una musica d'elite, è una musica particolare di ricerca che è stata insieme alla musica inglese il faro degli anni 70 in Europa per quanto riguarda il rock dal mio punto di vista. Sono contento tra l'altro di essere qui con due formazioni, una più di tipo Progressive e classico nel Spore e Prog che sono i The Trip e invece la seconda formazione è gli Arti e Mestieri, è una formazione più Jazz Rock ma comprende anche all'interno della propria struttura musicale, comprende anche i Progressive, quindi doppiamente contento di essere qui. Spero che possa andare avanti e sia interessante continuare questo itinerario viaggiante del Progressive Italiano che trovo un'idea bellissima, eccezionale. Grazie a QuerCittà per questa grande situazione. Dopodiché abbiamo, dal mio punto di vista, è anche molto importante citare il fatto che sono qui presente con la Tama e non è solo una questione di pubblicità, la Tama per me, da quando sono ragazzino, è una batteria fondamentale nella storia dell'evoluzione della batteria, è una batteria che ha dato tanto e sta dando ancora molto. L'ultimo modello, la BV della Tama, dove alcuni componenti all'interno delle strutture dei legni sono componenti che comprendono il legno del Bubinga, che è un legno particolarmente potente, che mi si addice perché il mio drumming è un drumming che ha una certa aggressività quando necessita, per cui ha bisogno di un grande attacco. Devo dire che con la Tama mi sto trovando da sempre molto bene anche quando non ero indorso, devo dire la verità. Quindi doppiamente contento anche in questo caso di poter partecipare a questo grande festival con due band e con la Tama, quindi un tris estremamente importante per me. Grazie. Grazie. Grazie.